Il ginocchio è una delle articolazioni più importanti del nostro corpo e un'articolazione è tale se ha la possibilità di muoversi nei tre piani dello spazio al punto da consentire sia le normali attività quotidiane sia quei gesti atletici così importanti per l'esecuzione dello sport. Tutti noi nasciamo con un patrimonio di cartilagine all'interno dell'articolazione